Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi io e Elia siamo in compagnia di Anna Chiara Ciao a tutti! Ciao Anna Chiara, Anna Chiara la vedete con il camice, l'avrete visto anche dal titolo comunque del video Finalmente sono super contento di avere qui con me una nutrizionista perché non so niente di cosa dar da mangiare a Elia, come fare eccetera Allora magari può essere un aiuto per tutti, ecco Bene, adesso Elia passi dietro in regia che gli chiedo delle cose per i papà praticamente Se poi hai qualche domanda per Anna Chiara, benvenga, va bene? Ok Ok Anna Chiara, direi che partiamo da intanto chi sei, gli studi che hai fatto e dove lavori adesso? Allora, mi presento, io sono Anna Chiara, sono una dietista, quindi ho fatto la laurea triennale in dietistica e ho studiato a Roma Successivamente ho deciso di fare un master in sport, cioè in alimentazione sportiva e integrazione Per capire un attimo il mondo appunto dello sportivo e dell'alimentazione Adesso lavoro a Negrar, ho un mio studio Un mio studio Anna Chiara, prima di entrare un po' nel dettaglio, diciamo, volevo chiederti in generale Cosa significa perché sentiamo tanto queste parole, mangiare bene, alimentazione sana Perché è importante e soprattutto per gli atleti, giovani e non, diciamo Allora, diciamo che mangiare bene, avere un'alimentazione sana è fondamentale in qualsiasi età Soprattutto è molto importante iniziare da giovani, questo anche per prevenire in un futuro alcune patologie Che sono legate con l'alimentazione, per esempio il diabete oppure anche il colesterolo alto Tramite l'alimentazione si può, diciamo, un po' sistemare la situazione del paziente Ovviamente se c'è uno sportivo è fondamentale avere un'alimentazione sana Questo perché? Per dare le corrette, i corretti fabbisogni all'atleta In maniera tale che l'atleta sia in grado di avere e di fare una performance ottimale e migliore Una premessa, Anna Chiara, io l'ho contattata perché ho visto una storia di Instagram dell'Alice, Braghi Che appunto immagino adesso ci racconterai che viene da te e in studio Perché io ti confesso che è tanto tempo, insomma da quando c'è il canale Che è un tema secondo me molto caldo Cercavo una persona, libri, qualcosa Però in realtà si trovi di ogni, magari sul ciclismo, quello da strada Che devono prepararsi per i grandi giri, fare altri chilometri Però per un po' più specifico diciamo sulla BMX Che magari invece è un po' più esplosiva rispetto a un'altra cosa E invece Anna Chiara è qui con noi grazie ad Alice Insomma immagino che con Alice hai fatto un percorso, quello stai facendo Esatto, Alice mi ha contattato la prima volta Perché voleva capire cosa mangiare in maniera tale da avere energia soprattutto per le gare Perché diciamo che la sua esigenza era quella di riuscire ad affrontare la gara Senza avere le gambe stanche Diciamo che quello era l'obiettivo principale E quindi insieme abbiamo studiato un piano alimentare specifico Perché come hai detto tu c'è molto diciamo a livello del ciclista Però la BMX è completamente diversa Quindi le esigenze che ha un ciclista Uno sportivo che fa BMX è diverso Perché lo ciclista magari ha lunga percorrenza Mentre BMX è pochi istanti e devi dare il massimo Esatto Perfetto, allora sei la persona giusta Anna Chiara veniamo diciamo ai ragazzini Che potrebbe essere Elia, no? Che ha sui dieci anni È importante fin da subito dargli diciamo un'alimentazione sana Cioè io adesso ti faccio un esempio che io mi ricordo che quando ero giovane Magari un po' più grandino di Elia se mangiava di tutto Adesso si fa un po' più fatica a mangiare di tutto Nel senso è importante fin da subito per i ragazzini farli mangiare correttamente Magari dirgli no quella roba lì non mangiarla perché non ti aiuta Non lo so ecco O è troppo pressante per loro Allora dipende secondo me dal modo in cui il genitore si approccia alla questione alimentazione Perché secondo me se un genitore va a dire al bambino Dobbiamo seguire una dieta Ok E il bambino a dieci anni Secondo me è troppo pressante perché parlare di dieta a questa giovane età è brutto Ok Il mio parere personale Ok Mentre se si parla più di una educazione alimentare Sì Lì secondo me è corretto fin da piccoli Ok In modo tale che comunque il bambino riesca a comprendere cos'è meglio mangiare Sia per la propria salute ma in questo caso per Elia soprattutto Cosa mangiare per allenarsi e per fare la gara nel miglior modo possibile Certo capito E poi anche secondo me per abituarli nel senso che se un domani magari diventano i professionisti Li diventa molto maniacale la situazione Se non sono un po' stati abituati forse prima Si trovano molto in difficoltà Sì poi magari più vanno avanti con l'età più è difficile cambiare le proprie abitudini alimentari Mentre se iniziano fin da piccoli Allora sono già diciamo propensi a capire cosa vuol dire Mangiare bene e avere uno stile di vita sano Ok Anna Chiara Sempre per il discorso dell'alimentazione sana Io una volta mi sembra di aver letto in un libro questo detto Colazione da re, pranzo da principe e colazione da poveri E cena da... Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Anna Chiara Sempre parlando di alimentazione sana Io una volta credo di aver letto sul libro questo detto Non so neanche se l'ho detto però Colazione da re, pranzo da principe e colazione da poveri È vera? No, cena! Colazione da re, pranzo da principi e cena da poveri È vera? È una fandonia diciamo? O può avere un senso? Allora può avere un senso Ok Soprattutto per il discorso colazione da re Ok Perché molte persone pensano che la colazione sia una cosa che si possa tranquillamente saltare Quei tempi che corrono poi Esatto, perché un sacco di persone dicono No, io la colazione non la faccio, bevo solo un caffè Certo Ed è sbagliato Ok Quindi diciamo che la colazione è importante tanto quanto il pranzo e la cena Ok E quindi anche magari la colazione semplice latte con i biscotti non è del tutto equilibrata Non è del tutto corretta Per avere una sana alimentazione quella non è la colazione più adatta Quindi bisognerebbe fare una colazione completa Quindi piuttosto dei biscotti sarebbe meglio lo yogurt con i cereali Ok Perché comprende tutte i nutrienti fondamentali Quindi un po' di carboidrati, un po' di proteine e un po' di dipili Quindi per quanto riguarda la colazione, la colazione da re è ancora valida Ancora valida Esatto La colazione è importante La colazione è fondamentale Poi per il pranzo e la cena, sì, cioè alla fine si può comunque alla fine anche considerare il discorso Pranzo da principi e cena da poveri Sì Comunque Per un discorso digestivo forse Esatto, bravo perché per esempio Che lavora troppo mentre dopo ho letto Bravo, cioè molte persone pensano Se mangio la pasta a cena ingrasso di più Ecco Ecco In realtà se tu mangi la pasta a cena è molto più digeribile rispetto a un petto di pollo, una bistecca Certo Quindi sarebbe meglio mangiare la pasta a cena con della verdura Perché poi vai a letto e nel momento in cui ti sdrai hai già digerito La tua digestione è già posto Di solito invece di noi italiani Si fa il contrario Quindi diciamo che è un detto che è ancora valido Perché comunque alla fine se seguiamo queste dritte Uno può fare una colazione molto abbondante A pranzo mangiare, non so, il pesce, la carne, la verdura e comunque il pane E poi a cena mangiare un piatto di pasta Perché comunque non fa ingrassare Le calorie e i carboidrati sono sempre gli stessi che li mangi a pranzo o a cena Però vai a letto che sei già a posto La tua digestione è già al completo Anna Chiara, grazie perché questa è una bella dritta su pranzo, cena eccetera Però c'è un discorso da fare Soprattutto per i bambini, secondo me almeno i miei ragazzini C'è la parte della frutta e la verdura Tu hai parlato della carne, hai parlato della pasta La frutta e la verdura Fai uno spot per favore Nel senso, come mai sono così importanti dentro l'alimentazione E magari, non so, se hai qualche tecnica per farla mangiare ai bambini e ai ragazzini Perché bisogna proprio sforzarli per dargliela, insomma Allora, la frutta e la verdura sono importantissimi E consideriamo che solitamente bisognerebbe consumare due porzioni di verdura al giorno Quindi a pranzo e cena Ok E tre porzioni di frutta Ok Quindi magari nei due spuntini, una colazione O comunque tre durante la giornata Ok Perché sono importanti? Considerando comunque, per esempio Elia, che è uno sportivo Sì La frutta e la verdura contengono i sali minerali Ok Che sono molto importanti Consideriamo che noi quando studiamo Il sudore contiene sali minerali Ok Quindi noi li perdiamo Ok Quindi Elia, ipotificamente, allenandosi Suda Sì Perde sali minerali E quindi per introdurli, senza magari utilizzare integratori Ok Li potrebbe rintrodurre semplicemente mangiando frutta e verdura Ok Quindi questo magari per gli atleti è fondamentale Ok Però in qualsiasi caso, per tutti i bambini o anche adulti Frutta e verdura sono molto importanti Proprio per il discorso vitamine e sali minerali Perché sono gli alimenti che li contengono Ok Capisco Un metodo magari per convincerli a mangiare Può essere magari Li trituriamo Esatto Magari delle polpette Ok Magari polpette con, non so, un petto di pollo Si frulla e si mette dentro delle zucchine In maniera tale che i bambini Non riescono a capire cosa c'è dentro Certo E si riescono un po' a mascherare Certo Può essere un'idea Certo E hai sentito Elia? Elia? Fa finta di non sentire Elia Silenzio stanza No però, secondo me, questa cosa dei sali minerali E del reintegro Secondo me la percepiranno e la percepirà Elia Insomma, perché per questo sono importanti Magari a volte basta dire Sono importanti per Esatto E magari cominciano, no? E questa è anche l'educazione alimentare Esatto Magari dire, guarda che sono importanti per lo sport Per quando ti alleni Certo Allora magari il bambino Inizia a mangiarli di più Rispetto a dire Devi mangiarli e basta Perché fanno bene Certo Magari collegarli con lo sport Che è un'attività che a lui piace Certo Dici, ok, allora Lo faccio perché so che è importante Ok Bene, una chiara premesso che Beh, ognuno magari può venire Nel tuo studio Per cose personalizzate Ovviamente qua Dobbiamo stare un po' A livello generale Però entrando un po' Nel dettaglio Di quello che è la BMX Che abbiamo detto prima, no? Dell'esplosività L'essere pronto alla gara Cosa possono mangiare I ragazzini e gli adulti Non so se c'è la differenzazione Diciamo Prima Durante Magari Durante l'allenamento Durante la gara E dopo Durante Io intendo che Durante la gara Non so Insomma, penso che con l'alice Che la segui, no? Loro fanno le manche, no? Fanno le manche Poi si fermano Poi la manche, eccetera Poi Cioè devono essere proprio belli carichi Nel momento in cui scende Sto benedetto cancello In pratica, no? Quindi non è Maledetto Maledetto cancello Ci dice Elia Va bene Comunque Ecco Cosa Cosa può aiutare Diciamo Di frutta, verdura Di altre cose Insomma I ragazzi Sia prima Durante E magari anche dopo Non so Per il recupero Non lo so Allora Parlando un po' in generale Sì Va bene sia per i bambini Che magari per gli adulti Allora Prima della gara O allenamento Sì Allora Facciamo magari Che la gara è alle 4 Ok Sì Magari Possiamo partire un po' dal pranzo Giusto perché c'è la differenziazione Se è la mattina Esatto È quello magari il problema Quindi magari a pranzo Sì Visto che comunque poi Alla competizione È meglio mangiare Un piatto di pasta Perché è più digeribile Sì Infatti vedo tanti Che lo mangiano Esatto Quindi in quel caso È meglio un piatto di pasta Può mangiare comunque magari Non lo so Un pezzo di grano O magari del tonno Fare comunque Aggiungere delle proteine Ok Questo prima della gara A pranzo Se la gara è nel pomeriggio Se invece la colazione Cioè nel senso Se è alle 9 di mattina Se invece alle 9 di mattina Allora visto che Diciamo che la gara È poco dopo Rispetto alla colazione È meglio mangiare Dei carboidrati Ok Quindi magari Anche magari il pezzo di torta Può andare bene Perché non deve andare Alla gara Con ancora diciamo Il senso Di pienezza Nello stomaco Quindi magari può essere Un pezzo di torta O anche magari uno yogurt Ok E poi magari comunque Poco prima della gara Può mangiare Un frutto Perché dà l'energia Comunque zucchero Poco prima della gara Ok Che magari può essere Mezz'ora Un'oretta prima Si può mangiare Si può mangiare un frutto Zucchero Zuccheri buoni Zuccheri buoni Zuccheri semplici Però comunque Ovviamente questo Ovviamente questo nel caso Nel caso della BMX E una Scusa un altro Il dattero tipo È zuccherino Giusto È zucchero Va bene Quello ti direi anche 20 minuti prima Un quarto d'ora Ok Perché è buono Ti dà la botta Giusto Anche per dire Anche la bustina di zucchero Sì Sembra assurdo Assurdo Però magari Può essere dato Tranquillamente Io ad Alice Per esempio Se ti senti tanto stanca Prima di salire Buttati giù Una bustina di zucchero O miele Se piace Perché comunque È zucchero Energia istantanea Considerando che Poi la smaltisci su Esatto Cioè praticamente Arrivi alla fine Che lo zucchero è già finito Dopo invece la gara Sì È importante Sì avere una porzione Di carboidrati Quindi può essere Il pane Ok Ma anche aggiungere Un po' di proteine Quindi per esempio Il panino col prosciutto Ok Va bene Però diciamo A fine competizione Certo Mentre durante Quindi considerando Che hanno tante Sì Le pause Esatto Lì Vai di carboidrati Quindi magari Può essere un altro frutto Oppure i datteri Ok Frutta secca Frutta secca Ok E un po' prima Della gara Una roba zuccherina Vai con lo zucchero Certo Cosa ne pensi Prima hai parlato Di carne Di pesce Anche no Cosa ne pensi Degli atleti vegani Cioè vegetariani Vegani Insomma Ha un senso Io avevo letto Il libro di Djokovic Che nel libro Secondo me Non era vegano Poi adesso Lo è diventato Però magari Dico una cavolata Però ecco In generale Cosa ne pensi Può avere un senso O anche no Insomma Allora Dipende ovviamente Dalla persona Diciamo che Se sei vegano O vegetariano E seppur uno sportivo Ok È molto importante Essere seguiti Certo Da un nutrizionista Da un professionista Comunque Dell'alimentazione Perché? Perché I vegetariani O vegani Non mangiando Determinati alimenti Hanno delle carenze A livello nutrizionale Certo Quindi soprattutto Se è un atleta A livelli anche Molto alti È importante Che quei nutrienti Che non riesce A prendere Devono essere Rintegrati In qualche modo Certo Quindi per questo È molto importante Soprattutto per un vegano Vegetariano Essere seguito In maniera tale Che il professionista Sia in grado di dire Guarda Devi integrare Con questo O quell'altro In base appunto Agli alimenti Che non mangia Aggiungo Questa domanda Degli famosi Integratori Sì Cioè Aiutano Cioè Qua forse C'è la differenzazione Tra grandi E adulti Adesso Dimmi Tra grandi Scusa I ragazzini Cioè Quando hanno senso Diciamo Gli integratori Per uno sportivo Allora Ovviamente dipende Sempre dallo sportivo Che si ha davanti Come hai detto prima Anche l'età Quindi sia adulto O un bambino Sì E anche Dalla competizione Che deve fare Ok Perché magari Se C'è una persona Che Deve fare Diversi allenamenti Per lungo tempo Allora magari Lì l'integrazione Può essere Ok Cioè Aiuta molto La prestazione Diciamo che In questo caso Che magari È lì È un bambino È tutto Gli integratori Non sono fondamentali Ok Possono anche Essere evitati Diciamo che Anche semplicemente L'integrazione Però di magnesio E potassio Ok Quelli possono essere Molto utili Sempre per il discorso Di prima Diciamo collegandoci a prima Che dicevo del sudore Sì Che sudando Si perdono Tanti Sali minerali Quindi magnesio E potassio Quelli se vengono Rintrodotti Va benissimo Certo Quindi magari Un'integrazione Di magnesio e potassio Può essere Sì Ed è per questo Immagino che Siccome è appunto È uno sport Che comunque va Primavera-estate D'estate Quando fa un gran caldo E si ritrovano Alle una magari A scendere dal cancello Vedo che girano Integratori Robo Mettiamo Eccetera Quello può avere È fondamentale Anche per un ragazzino Anche per un ragazzino Infatti una cosa Che prima non ho detto Parlando sempre Di cosa mangiare Prima, dopo e durante Bere L'imbratazione È proprio il must Certo A volte si dà molto Per scontaggio Sì sì bevo Però in realtà Molto spesso Ci sono atleti Che sono leggermente Disidratati Certo Perché non pensano Magari il caldo E il fatto anche Che sudano Che quello comunque Sono liquidi Che si perdono Certo E quindi bere È fondamentale Se si mette anche dentro Magari magnesio e potassio Tanto meglio Esatto È una precisazione Perché Elia Tipo Non so Il giorno della 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 gara Per esempio Mangia quelle parrette Credo proteiche Giusto Elia Si chiamano proteiche Sì Si chiamano Barrette proteiche Energetiche E poi anche Prende il gel Per dire Quello può Cioè Non sono gli integratori Di qui Quello può andare Diciamo che Tra barrette energetiche Barrette proteiche C'è una differenza Sì scusami Cioè che quelle proteiche Hanno un contenuto Di proteine più alto Ok Mentre quelle energetiche Diciamo Sono da Mangiare Magari poco prima Della competizione Perché Ti danno Quella energia immediata Invece le proteiche Hanno più senso Per gli più grandi Per gli adulti Per i più grandi O anche magari Un'oretta prima Un'oretta e mezza prima Possono essere mangiate Le proteiche Per il discorso Della BMX Ok Mangiare tante proteine Prima Non ha tanto senso Perché le proteine Tanno energia Però dopo Ah ok Quindi in questo caso BMX C'è bisogno Di un'energia immediata Ok Quindi magari Ha più senso il gel Come dicevi tu Che ha un alto contenuto Di carboidrati Quindi l'energia Te la dai Comunque va bene Sempre un frutto Anche Un frutto va benissimo Ok Ultima domanda Anna Chiara Allora Beh io in descrizione Metto tutti i tuoi riferimenti Se le persone Insomma vogliono I genitori I ragazzi Insomma vogliono Contattarti Perché noi Abbiamo preso un po' A livello generale Poi certo Tu hai una professione Quindi Segui gli atleti Le persone E allora Questa è la domanda Come Cioè se io vengo da te No Come funziona È un percorso Che si fa Cioè vengo dal tuo studio E con il ragazzino O con l'adulto Insomma si fa Un percorso con te Cioè come tu puoi aiutare Un atleta Diciamo A performare Ovviamente meglio Perché quello è l'obiettivo Ovviamente dipende Dall'atleta che ho davanti Ok Quindi in base Alla persona che ho davanti Si può stabilire Ovviamente l'obiettivo Per esempio L'alice aveva un determinato obiettivo Ok Quindi insieme Abbiamo capito Qual era L'obiettivo da raggiungere E nel modo migliore Certo Quindi io Facendo ovviamente La dietista Quindi Lavorando con la nutrizione Ho cercato di rendere Un piano alimentare Su misura per lei Perché è fondamentale Avere un piano alimentare Personalizzato Perché Tutte le persone Ognuna persona è diversa E un atleta Ha bisogno di determinate Esigenze Magari che un'altra persona Non ha Certo Quindi diciamo Che è quello il mio compito Creare un piano alimentare Personalizzato Ok Per la persona Che ho davanti Certo Ovviamente per l'atleta L'obiettivo è quello Di avere una prestazione Migliore Raggiungere determinati obiettivi Certo Bene Allora Vieni qua Elia Anche Paolo Dai vieni Paolo Sì Di qua in mezzo Dovete venire Ecco Con special guest Paolo E Elia Siamo arrivati alla fine Di questa intervista Io ringrazio tanto Anna Chiara Grazie a voi E come ho detto prima Vi metto tutti i suoi riferimenti Se avete bisogno Di altre domande Eccetera E anzi Mettete nei commenti Se qualcuno ha qualche domanda Magari faremo un'ulteriore intervista Vedremo Insomma Volentieri Va bene Ciao Ciao!